Lavori nelle commissioni. Città metropolitana ricevute le RSU. Rassegna sui diritti umani. In settimana la commissione affari istituzionali ha proseguito l'esame del disegno di legge sul riordino delle province. In sesta è stato audito il presidente delle DISU. L'assessore all'urbanistica ha svolto in commissione una informativa sulla VAS, mentre in sanità sono stati auditi enti e associazioni sui servizi di salute mentale. Riunione congiunta per le commissioni lavoro e legalità sul caporalato. In settimana la commissione affari istituzionali ha proseguito l'esame del disegno di legge sul riordino delle funzioni delle province e della città metropolitana. In commissione cultura audizione del presidente dell'ente per il diritto allo studio sulle residenze universitarie. In seconda informativa dell'assessore all'urbanistica sulla valutazione ambientale e strategica nei procedimenti urbanistici. In sanità audizione di enti e associazioni sul riordino dei servizi di salute mentale. Valutare e sostenere gli emendamenti al disegno di legge sul riordino delle province in merito alla ricollocazione del personale. È quanto hanno chiesto le rappresentanze sindacali unitarie della città metropolitana nell'incontro coordinato dal presidente dell'assemblea Mauro Laus con i capigruppo. A preso il via al cinema romano di Torino la rassegna Riot on the Movie, diritti al cinema, realizzata dal Comitato regionale per i diritti umani con AIACE. L'iniziativa prevede la proiezione di otto pellicole per riflettere sull'affermazione e la negazione dei diritti umani nel mondo. Intervenuta anche Maria Grazia Breda del coordinamento sanità e assistenza che ha illustrato e attualizzato i temi e gli interrogativi proposti dal film. Sono dei film che trattano gli argomenti che vanno dall'autodeterminazione dei popoli alla lotta contro le diverse forme di discriminazione, alla rivendicazione della libertà religiosa, al diritto alla libertà di opinione. Sono dei film trattati e voluti dagli esperti del Comitato dei diritti umani. Ne vediamo uno in modo particolare che è la storia di due disabili che hanno la fortuna di incrociare l'amore e comunque purtroppo per i tabù umani hanno delle difficoltà nel diritto alla felicità. Grazie a tutti.